Noi abbiamo bisogno di sicurezza però, molte volte stiamo assistendo in questi mesi a delle diatribe, a dei combattimenti tra i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto, si delegittimeranno certe volte, più volte al giorno, con teorie, opinioni, ipotesi. Ecco, tutto questo non fa bene alla nostra gente, non fa bene alle persone che non hanno prevenzioni, non hanno pregiudizi ma vogliono essere anche informate e rassicurate. Certamente dietro al vaccino c'è da pensare che ci siano anche un'infinità di interessi economici enormi, quindi la fretta non è mai una buona consigliera e i vaccini hanno bisogno di essere testati e di essere sicuri perché il vaccino è sempre una scoperta, una scoperta che chiede anche molta, molta prudenza. Ecco, detto questo, io credo che dobbiamo essere grati alla scienza quando la scienza si propone come tale e quando non si propone invece come tale ma quando diventa una specie di religione, diventa una specie di idolatria e chi si veste col camice bianco diventa un guru che può dire e pontificare di tutto e di tutti semplicemente in nome della scienza, beh, allora questa scienza mi preoccupa non poco. Grazie a tutti.